Nel 2015 l'infortunio mortale sono in un tempo del 16%. C'eravamo abituati lì perché sembrava che venissero, invece no. Io mi aspetto a che il governo, che è l'azio, che il ministro del lavoro si venga a perdere per originare questo fenomeno. Quindi, che vengono le strutture, sensibilizzate, tutte le persone, il suo problema, che riguarda tutti. Quindi riguarda anche i laboratori, ma anche i cittadini. Molto spesso i rischi che sono in realtà, che si espandono e hanno già lento i cittadini. Quindi, come se dice, ammi il go! Grazie.